Io penso che pressoché tutti abbiate già portato l'autorizzazione, ecco se qualcuno di voi per caso non avesse avuto modo o tempo di portarlo o comunque non l'avesse per favore non si mette in evidenza il video, non alzi la mano per intervenire oppure lo dica prima se vuole alzare la mano che verrà ripreso l'audio ma non il video perché non ha l'autorizzazione e poi la trasmissione che sarà fatta su Youtube e a scuola per le classi che non sono presenti, va bene? Quindi un minimo di attenzione e di rispetto per quella che è la legge.